Questo è ciò che successe alcuni giorni fa, più precisamente venerdì 11 novembre 2016, day one del NES Mini. Buongiorno, sono venuto a ritirare il NES Mini. Ma l'hai prenotato? No. Mi spiace, ma non ce ne sono arrivati altri oltre a quelli prenotati. Ma figa! Oppure? Buongiorno, sono venuto a ritirare il NES Mini. Ma l'hai prenotato? No. O anche? Buongiorno, sono venuto a ritirare il NES Mini. Mi spiace, sono finiti. Ostia, ma sono le 9.05. E perché no? Buongiorno, sono venuto a ritirare il NES Mini. No. Come no? Guardi, è meglio che se ne vada, figlio di puttana. Ma anche in situazioni come la seguente, come la mia. Buongiorno, sono venuto a ritirare il NES Mini. Ma l'hai prenotato? No. Ok, ecco. La ringrazio, ma non è che per caso ne ha due? Ma certo, prego. I miei più grandi complimenti alla Nintendo che anche di fronte a delle idee così geniali come riconfezionare, rimaneggiare, ridisegnare una console vecchia di 30 anni e suscitando scalpore, vendendola a solamente 60 dollari, 60 euro, è riuscita a mandare tutto a puttane con una distribuzione veramente scarsa dalle quantità di pezzi disponibili in tutto il mondo. Grandi. Continuate così. Passiamo quindi al momento più interessante sicuramente di questo video, ovvero all'unboxing del NES Mini che apro con voi per la prima volta. Vi faccio notare solamente per chi, vabbè, non avesse ancora avuto modo di poterlo toccare con mano che la confezione esterna riprende un po' quelli che erano i disegni, i colori tipici degli anni 80 con questo sfondo stellato che vabbè, fa molto anni 80 però è completamente senza senso. Voilà. Come prima cosa all'interno della confezione notiamo il manuale di istruzioni che sicuramente ci spiegherà per filo e per segno come connettere il NES Mini al televisore però è una cosa abbastanza basilare, abbastanza semplice quindi con il manuale di istruzioni come sempre possiamo fare questa operazione. Sono presenti anche 300, ben 300 punti platino del My Nintendo di cui non so un cazzo, non so a cosa servono. Mi sembra di notare qualcosa tipo Mitomo ma vabbè. Passiamo alla console. La console, come dire, è un NES Mini ma è proprio Mini perché, come vedete, sta proprio in una mano. Ma che bello, ma che bello oggettino. Ti piace Erika? La console riprende abbastanza fedelmente ciò che era il NES Mini dal punto di vista della della scocca esterna, ovviamente il cassettino delle cartucce non si apre, il tasto reset. Ma perché prima era NES Mini? Porca troia sto registrando! Sì, ha ragione Erika, ho detto una stronzata. Il NES Mini riprende la scocca del NES originale, non del NES Mini, non ha senso. Abbastanza fedelmente perché il pulsante reset si preme, non so se funzionerà davvero come reset. Il pulsante power invece funziona, le porte sono diverse rispetto a quelle del controller del NES. Mi pare di aver capito che siano simili a quelle del Wii, del Gamepad Pro, come minchia si chiamava. Comunque non ce l'ho, quindi non posso testare. Dietro abbiamo una porta HDMI e l'alimentazione che è una micro USB, mini USB. Non ho mai, non mi ricordo mai qual è la micro e la mini. Vabbè, quella abbastanza piatta tipo da cellulare. Ecco, un piacere che vi chiedo che non c'entra un cazzo con questo unboxing. Queste porte si chiamano HDMI o HDMI. Non chiamatele HDMI perché siete dei figli di puttana. Passiamo quindi al controller al mezzo, cioè con cui andremo ad interagire con la console con i 30 giochi disponibili all'interno della memoria. Il controller riprende, mi pare, sapete, a parte il video con AVO sono 25 anni che non uso il NES. Dicevo, riprende le stesse dimensioni, almeno ad un primo tocco, le dimensioni dal controller originale del NES con croce direzionale, pulsante select e start, pulsanti rossi B e A o A e B. Che dir si voglia. Bene. Il cavo, come ben visto, è proprietario. Grazie Nintendo per questo regalo fantastico. Ok, cosa rimane all'interno della scatola? Suppongo la cavetteria. Esatto. Abbiamo un cavo HDMI, figli della merda, e il cavo d'alimentazione. Da una parte USB, dall'altra micro USB o mini, mi sembra micro ma potrei dire una cazzata, e manca, come sappiamo tutti il coso, dicevo, come sappiamo tutti e come è anche espressamente scritto sulla scatola, vabbè, non riuscirete mai a vederlo, manca l'adattatore per poter collegare questo cavo ad una presa elettrica, un adattatore qualsiasi, tipo quello dell'iPhone. Vabbè, diciamo che per contenere i costi hanno preferito non inserirlo. Di sicuro, almeno personalmente, preferisco una politica di questo genere, che almeno mi dà un cavo USB di questo tipo, che spero di poter connettere al televisore e quindi prendere energia direttamente dallo schermo, vedremo dopo, piuttosto del 3DS che viene venduto senza cavo d'alimentazione. Quella è una ladrata, complimenti ancora a Nintendo. Sì, posso capire che a qualcuno girino le palle proprio per l'assenza di questo adattatore all'interno della confezione, perché non viene resa possibile un'operazione fondamentale come quella di collegamento alla presa elettrica, però, ripeto, personalmente preferisco un'azione di questo tipo, soprattutto se cercando bene all'interno della confezione, della console, io ho trovato la zapper. Bene ragazzi, non ci rimane altro da fare se non collegare tutto questo bell'ambaradan al televisore e testare, inizialmente, il NES Mini e i giochi. Però, è domenica, è quasi mezzogiorno, sono di Cremona, non sono di Cutro, ora vado a mangiare a casa della mamma, ci rivediamo oggi pomeriggio. Bene ragazzi, eccoci ritornati alla seconda parte dell'unboxing meraviglioso del NES Mini. Partiamo con un piccolo segreto. Per i più giovani, quindi per i più rincoglioniti, posso raccontarvi che per poter ideare quella divertentissima battuta sulla zapper di prima, ho dovuto rispolverare il mio action set del NES anno 1988. Sinceramente non ricordo se fu l'anno in cui arrivò a casa mia, però ho potuto constatare con mano che avevo ragione, ovvero il controller del NES Mini è identico, sia come forma che come dimensione, ovviamente, al controller del NES originale. Faccio a meno di raccontarvi, le ciabatte, faccio a meno di raccontarvi quale possa essere stato il mio sgomento nel rendermi conto oggi che nel momento del mio acquisto del NES originale, io avrei potuto essere tranquillamente uno di questi due bimbi minchia ingellati dall'epoca, anzi forse ero un pochino più giovane, mentre oggi, nel momento dall'uscita del NES Mini, io sono molto più vicino a quest'uomo stupendo. Ok ragazzi, non ci rimane nient'altro da fare se non installare il Nintendo Entertainment System Mini e giocare. installazione finita. Aspettate un secondo però, siccome, come potete già notare anche voi, qua a livello di cavi e console c'è già un casino del signore, ho deciso di connettere il NES Mini tramite il cavo HDMI, morite bastardi, della One, visto che è la console che sto utilizzando e amando tantissimo nell'ultimo periodo. Non solo. Perché stamattina vi dicevo che personalmente non mi sono incazzato per l'assenza dell'adattatore tipo quello dell'iPhone all'interno della confezione del NES Mini, ma perché sapendo della presenza di questo cavo USB, speravo che potendolo connettere alla One, il NES Mini, come dire, si accende! E sono molto contento di ciò, perché finalmente, a distanza di tre anni dal Day One di Xbox One, perdonate il gioco di parole, ho capito quello che è il vero scopo di questa console, ovvero è un fottuto adattatore nero per il NES Mini. Ok, popolo angolare, giunti alla schermata di selezione della lingua, non ci rimane altro da fare se non utilizzare il controller per poter, appunto, selezionare la lingua e quindi poter cominciare a... Tutte le periferiche dovrebbero essere wireless, ok? Magari peserebbero di più, ci sarebbe il consumo di batteria, ma il cavo è morto! No, cazzo, il cavo è corto. Ok, ragazzi, quindi ora non ci rimane altro da fare se non giocare, però vorrei un attimo farvi vedere la mia configurazione fantastica per poter utilizzare il NES Mini e questo porco diaz di cavo cortissimo che hanno realizzato, secondo me, senza un minimo di cognizione, solamente per poterti vendere quando usciranno magari dalle prolunghe, ufficiali o non, per questa idiozia. Va bene? Sì, lo so che non si vede un cazzo, provateci voi a registrare sui 50 pollici LED. Bene, ragazzi, dopo queste prime prove su strada, il NES Mini è una console che consiglierei, dipende. Più che altro dipende dal motivo che vi spinge ad acquistare il Nintendo Mini. Perché? Se lo volete acquistare perché per l'oggetto in sé, beh, 60 euro per una riproduzione in miniatura del NES originale, che tra l'altro è giocabile con ben 30 giochi al suo interno, sicuramente il gioco vale la candela, in quanto sappiamo benissimo cosa cazzo costi. Quanto cazzo costi ricomprarseli dalla Virtual Console, dall'eShop, insomma da tutti i vari store virtuali della Nintendo che ad ogni console cerca sempre di ripropinarceli e che, tra l'altro, non costano nemmeno poco. Il Nintendo NES Mini si potrebbe quindi considerare quasi come una collection di questi 30 giochi, di questi 30 titoli che segnarono la vita del Nintendo negli anni 80 e che vengono venduti tutti insieme ad un prezzo, diciamo, ragionevole in una forma magari non originalissima ma comunque interessante. Consiglio sicuramente l'acquisto del NES Mini a chi invece ha proprio una intenzione mirata di recuperare proprio questi 30 giochi o parte di essi, anche se sono convinto che negli ultimi 25 anni abbiate tutti quanti avuto modo di poterli recuperare senza bisogno del NES Mini. E per i vecchi? Per i vecchi secondo me è un acquisto indispensabile, per diversi motivi. Prima di tutto perché riprendendo in mano questi giochi di così tanti anni fa vi renderete conto di quanto vi siate ammorbiditi, di quanto siate peggiorati grazie ai giochi dalle console moderne. Secondariamente perché magari in tutti questi anni voi avete perso interesse nel videogaming e non vi siete resi conto che vostra mamma è una mignota. Ed infine il NES è consigliabile ai giocatori AG perché vi consente, grazie alla funzione di cui vi parlavo prima, del salvataggio di... No, non ve ne ho parlato prima perché sono un pirla e nell'editing quella parte l'ho eliminata. Comunque nel NES Mini sono presenti quattro slot di salvataggio che vi consentono appunto di frizzare un gioco e di riprenderlo alla sessione successiva. Del salvataggio di effettuare davvero quelle partite da dieci minuti, interrompere e riprendere alla prossima sessione, cosa che i giochi di oggi sì vi consentono di fare però sapete benissimo anche voi che non è più consigliabile fruire un gioco in questa maniera. Ma quindi in sostanza esiste un motivo per cui non consigliare il NES Mini? Sì, chiamatela nostalgia, chiamatela come volete, però non posso non ammettere che oggi riprendendo in mano per la prima volta questi giochi a distanza di decenni ho sentito molto marcata l'assenza di un elemento a dir poco basilare. Esatto ragazzi, bravi avete indovinato ciò che è emerso oggi dal dalla prova, dai test su strada di questo NES Mini è la insostenibilità dell'assenza del secondo giocatore accanto a te. Oggi siamo abituati in maniera completamente diversa grazie alla rete, grazie all'Xbox Live, al PSN, ma riprendendo in mano giochi così vecchi senti proprio il bisogno di avere qualcuno di fianco con cui condividere pugni, sberle, ma anche vittorie. Probabilmente perché i giochi di oggi sicuramente sono impostati sulla rete, su internet, ma manca, si sente tanto la mancanza del contatto fisico con tuo fratello, tuo amico, tua sorella, il tuo vicino di casa. E purtroppo mi rendo conto, non solo grazie al NES Mini, ma è un voler sottolineare questo aspetto, mi rendo conto che oggi ciò sia sempre più difficile da realizzare. A causa ovviamente del poco tempo libero, dei moltissimi impegni, dei diversi stili di vita che hai con i tuoi amici, oggi la rimpatriata per giocare in due a Bubble Bubble o a Contra, è praticamente impossibile. E questo perché? Perché io, come i miei amici, come tu che mi stai ascoltando, abbiamo, o magari nel tuo caso avrai, 35 anni, quasi 35 anni. Porca troia.